Allora, due sessioni sostanzialmente stanno per le due assemblee che si stanno svolgendo contemporaneamente a Pechino, che sono l'Assemblea Nazionale del Popolo, quella che propriamente potremmo definire la forma più vicina al nostro Parlamento, cioè lì sono eletti i deputati al Parlamento cinese e la conferenza consultiva politica del popolo cinese, che come dice la parola stessa è praticamente un luogo di consultazione, all'interno della conferenza consultiva sono presenti i rappresentanti e i delegati del Partito Comunista, degli altri partiti, cosiddetti partiti democratici e delle associazioni, diciamo così, associazioni di categoria, associazioni di massa e ha un ruolo prevalentemente consultivo, cioè quindi quello in qualche modo di consigliare e contribuire al dibattito democratico del Paese, mentre l'Assemblea Nazionale è il luogo dove appunto in qualche modo si leggifera. Ovviamente a noi sembra strano nel senso che si riunisce una volta l'anno, non è che lavora soltanto una volta l'anno, una volta l'anno c'è questo grande momento, diciamo così, di assemblea plenaria, poi in realtà sia la conferenza consultiva politica che l'Assemblea Nazionale del Popolo hanno delle altre strutture, appunto anche lì c'è lo standing committee e altro che lavorano poi per tutto, in qualche modo per tutto l'anno. Ovviamente questi rappresentanti, quelli dell'Assemblea Nazionale non sono eletti direttamente dai cittadini, ma sono eletti attraverso elezioni di secondo grado. Qui la discussione diciamo la tronchiamo un po', nel senso che per spiegare tutto il sistema elettorale cinese bisognerebbe partire da come è amministrata la Cina, appunto come è suddivisa dal punto di vista amministrativo. Volendo semplificare in maniera un po' brutale, diciamo al livello più basso di Contea o comunque rurale, c'è il voto diretto per come lo conosciamo noi, per cui chiunque può candidarsi basta che sia presentato da dieci elettori, eccetera, eccetera, e poi da lì in poi le elezioni sono elezioni di secondo grado e quindi per essere eletti bisogna che ci siano dieci deputati del livello più basso che ti presentano, si presenta una lista che è dal 130 al 200% più grande dei numeri che devono essere eletti e quindi poi avvengono le elezioni, o per forma diretta o per forma indiretta. Chiaramente è una struttura organizzativa e democratica diversa rispetto a quelle nostre occidentali, in qualche modo frutto e figlie della rivoluzione francese, ma non per questo i processi democratici sono finti, come più o meno si dice in Italia. Ci sono tante altre forme di tentativo di coinvolgimento e di consultazione dei cittadini che soprattutto negli ultimi anni vengono sperimentate. Già da diversi anni, soprattutto le grandi città, quando devono approvare delle leggi che hanno un impatto diretto sulla vita dei cittadini, in qualche modo da un lato raccolgono i consigli e chiunque può partecipare inviando proprie osservazioni o proprie emendamenti. In alcuni casi vengono richiesti anche i punti di vista di stranieri, per esempio se ci sono degli stranieri residenti in maniera permanente in Cina, anche essi possono essere coinvolti in questo processo di consultazione democratica, ma poi ci raccontava Erta in un'altra sede che ci sono anche delle forme nuove tipo coinvolgimento attraverso le piattaforme democratiche, le piattaforme social dei quotidiani o anche Wessin e quant'altro. Quindi stanno tentando un mix tra questo meccanismo dove i rappresentanti sono eletti di secondo grado e invece la partecipazione diretta attraverso forme di consultative e di coinvolgimento popolare. Quello di cui si discute con gli Anhui, con la doppia sessione, sono queste due sessioni del Parlamento congiuntamente che avvengono in questo anno, che dal punto di vista cinese è l'inizio dell'anno, infatti avviene sempre dopo il capodanno cinese e quindi è il momento politicamente non solo più importante dell'anno.